Con le ultime due vittime della notte scorsa diventano 38 le persone morte in Calabria dall'inizio dell'epidemia da coronavirus. Nella tarda serata aveva perso la vita una donna di 78 anni che era ricoverata nell'ospedale di Reggio Calabria. Poco più tardi nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale di Catanzaro, espirato un uomo che si sottoponeva a dialisi nello stesso nosocomio rimasto contagiato insieme ad altri pazienti e ad alcuni medici ed infermieri. A proposito, due infermiere hanno contratto il virus nei reparti in cui lavorano, una in quello di malattie infettive a Catanzaro, l'altra in ematologia a Reggio Calabria. Tuttavia anche i dati di questa mattina del laboratorio di analisi dell'azienda ospedaliera di Catanzaro ribadiscono la tendenza alla diminuzione dei contagi già manifestatasi. Solo due nuovi casi di positività, uno nel catanzarese, l'altro nel crotonese su un totale di 160 tamponi che hanno però pure confermato altre sei positività, una nel catanzarese e cinque nel vibonese. Ieri erano stati individuati cinque nuovi contagiati su un totale di 149 tamponi. E mentre il governo annuncia che la stretta agli spostamenti andrà avanti almeno fino al 13 aprile, ovvero fino a lunedì di Pasquetta, la Regione ha annunciato la proroga fino al 12 aprile delle ordinanze di chiusura in entrata ed in uscita dai 14 comuni in cui si è registrata una crescita anomala del contagio. Si tratta di due comuni del Regino, Montebello Ionico e Merito Portosalvo, di quattro comuni del Cosentino, San Lucido, Rogliano, Santo Stefano di Rogliano e Bocchigliero, di cinque comuni del Catanzarese, Chiaravalle Centrale, Soverato, Torre di Ruggero, Valle Fiorita e Cenadi, di Cutro nel crotonese e di Serra San Bruno nel Vibonese. Nella nuova ordinanza regionale si spiega che la proroga è motivata dal fatto che l'analisi dell'evoluzione epidemiologica desta ancora preoccupazione in rapporto al contesto, all'incidenza dei casi e dalla potenziale diffusione del contagio. Che il pericolo al su sia tuttora molto alto lo conferma anche il capo della protezione civile Angelo Borrelli che in un'intervista sul Corriere della Sera di oggi ha sostenuto che la fuga dal nord da inizio a metà marzo è stata un evento molto grave e che certamente ha contribuito a un incremento della diffusione del virus nelle altre regioni. Borrelli ha anche detto che grazie all'apertura di nuovi canali di approvvigionamento sono arrivati in Italia grossi quantitativi di dispositivi di protezione e che le consegne alle regioni cominciano ad essere tempestive.